Michele l'abbiamo fatto sto governo l'abbiamo fatto l'abbiamo portato a casa e porca miseria ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta Michele che dici non so l'avete fatto voi voi chi voi i rettiliani ma non siamo tutti della stessa parte non siamo tutti tutti liberals c'è ancora il ritorno per caso no non c'è il ritorno adesso ti sento bene non siamo tutti ma no l'ha fatto l'hanno fatto non so come valutare io sono ancora qui sospeso forse c'è un raro momento di ottimismo forse perché mi fido dell'uomo e quindi ho proposto io stesso quando avevo fatto la diretta con gli amici di Liberi oltre l'interpretazione astuta su cui vedo adesso tutti concordano evitiamo il primo errore di Monti tiriamo dentro tutti i partiti così sono responsabili di quello che facciamo perché alla fine sono qua a togliergli le castagne al fuoco non è che sono qua no a farmi i cazzi miei o perché volevo io sono qua perché me l'han chiesto loro quindi tanto vale che lo rendiamo esplicito ecco no? sì sì assolutamente assolutamente ci sono dei nomi improbabili devo dire ecco questo di Speranza l'ho razionalizzato dicendo vabbè ha voluto addirittura Liberi Uguali nel coso probabilmente avrebbe voluto anche la Meloni poi vorrei sentire la vostra opinione se la mossa della Meloni è piccola astuzia o suicidio secondo me è una scommessa cioè la Meloni scommette sul fatto che avendo Salvini detto di sì al governo riuscirà a trascinarsi un pezzo di Lega questo secondo me è una scommessa della Salvini della Meloni mi sembra questo mi sembra una scommessa dovuta anche al fatto che lei scommette in parte avendo ragione anche sulla spaccatura dei 5 Stelle io lo vedo nei prossimi nei prossimi due mesi la Meloni che fa un po' l'occhiolina di Battista e prova ad accapararsi una parte di quel momento di Battista se mi ricordo faceva il ghevarista ma era mezzo fascio ma come tutto mezzo 5 Stelle ma scusami 5 Stelle in realtà sono un miscuglio fra la sinistra più sgangherata e la destra sociale che però vuole ammantarsi di bei sentimenti in fin dei conti quindi secondo me la Meloni ha visto due bacini elettorali su cui prendere un po' di spunti e quindi si è fatta questa scommessa non mi ha stupito non mi ha stupito ma anche perché hai l'audio disattivato Michele scusa per evitare il rischio di ritorno ve l'ho disattivato sì lei ovviamente proprio gioca gioca a raccogliere i voti del dissenso dell'incazzatura dello straparlare che è anche una scelta che ho osservato dagli amici questa è una scelta da sempre che ti relega fuori dall'area governativa non governerai mai sono voti buttati via sono i voti della protesta della rabbietta dell'io spacco tutto non mi va bene a niente sono tutti stronzi che garantiscono cioè votare Meloni qualunque sia il tuo desiderio è garantirsi che quel desiderio non verrà esaudito perché per alludire i desideri bisogna governare bisogna giocare la palla là dove viene passata e non stare ai bordi del campo a urlare e il voto quindi su questo non ci piove la cosa così più dettagliata che non mi convince è se riesce a tirare perché c'è anche un appezzo di questo voto che è tipicamente un voto inutile a nasconderlo molto ignorante molto emotivo che è anche capace di entusiasmarsi con il draghi di turno se fa due robe che a loro sembrano quelle giuste questi decidono che che niente che questo qua è il salvatore del paese quindi quindi rischia anche di perderlo parte di quel voto comunque niente era pura curiosità la mia era una curiosità se vuoi così tattica però guarda io sono molto d'accordo sulla cautela io ho anche sentito quello che avete detto durante quella chiacchierata secondo me bisogna andarci molto cauti perché anche Draghi si è preso un rischio mica da poco cioè l'astuzia la condivido ma anche la sua non scommessa mica da poco perché lui con questa scelta di tenere dentro sia Lega 5 Stelle si è esposto a rischi non indifferenti quindi insomma stiamo a vedere stiamo a vedere però tu oggi quando ti ho chiesto ma di cosa cacchio parliamo visto che magari evitiamo di farci una chiacchierata a fiume su Draghi che ormai si spendono già sono d'accordo sono d'accordo troppi fiumi troppi fiumi ma era così era più che altro uno spunto per iniziare ma tu mi hai scritto che vuoi parlare che mi interessa di più vuoi parlare degli errori della sinistra colpevolista da Felicia Pelosi e questo è un messaggio che mi ha proprio che bello che bello dai che ci divertiamo raccontami cos'è in mente audio 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 Michele audio con questo tentativo di non essere invasivo come dire con no ma tienile attivo guarda che adesso non c'è più ritorno avevo paura che si creasse vai tranquillo ho stasciato l'ennesimo laptop sono in emergenza ho fatto tutto al volo pensavo che non funzionasse un piffer infatti ero pronto da scusarmi cosparmi cospargermi il capo di cenere e dire a Rick ti ho rovinato la diretta vai tranquillo vai tranquillo invece mi è andata e niente allora in parte me l'aspettavo penso che io ho una visione ormai della sinistra veramente deleteria cioè è affetta proprio nei sui circoli intellettuali da un ombelichismo totale questi si guardano l'ombelico per non dire peggio l'altro buco adesso simmetrico e ragionano su quello vivono in una bolla assurda in cui penso che la rivoluzione mondiale e il cambiamento delle condizioni di vita delle donne consiste nel mettere gli asterischi dopo deputato asterisco senza occuparsi delle condizioni reali di vita delle donne di che cazzo ne so gli asili infantili gli anticoncezionali che ancora anche se fa ridere perché siamo nel 2020 ma in molte parti anche di questo paese sono cose che la gente eccetera eccetera in me si occupano di questi simbolismi del cazzo con un tono moralista che ormai li ha presi no totale perché è molto divertente molto divertente quando avevo 15 anni la destra moraleggiava la cestra aveva continuamente il ditino puntato drogatti capellone mio padre quando gli ho detto mi faccio crescere i capelli mi ricordo avevamo 12 anni voglio la camicia la prossima camicia che mi compro me la compro a fiori con l'amico mio ci toccavamo le monetine su cose di ferro con un po' di stagno ci facciamo gli anelli era 1968 per davvero ok mio padre ha detto scappestrato ha provato la fine della famiglia non ti dico anzi ha usato parole più pesanti che evito perché se no sei su Twitch e ti censurano ok e quindi la destra era sta roba clerico fascista che moraleggiava qualsiasi cosa eravamo colpevoli peccatori era sbagliato eccetera eccetera e la sinistra rivendicava i padroni la povertà i complotti capitalisti eccetera schematizzo le due estreme diciamo così quelle insupportabili comunque adesso è molto divertente perché è diverso adesso la roba la Meloni ci è utile a destra hai sta roba basta euro contro i banchieri la rivendicazione di non si capisce quale palingenesi economica ma comunque di tipo rivendicativo a sinistra c'è il ditino puntato moraleggiante per cui sei brutto e cattivo se non usi l'asterisco e così via e mi ha colpito vedere la scelta suicida dei democratici di spingere a manetta sta cosa e la sconfitta perché poi è una sconfitta che lo riabilita come fanno a non rendersene conto agli occhi di una fetta di paese quando avevano in tasca 20 giorni fa un'offerta della maggioranza ufficiale del senato che erano d'accordo a votare praticamente all'umanità una severa condanna non legale non un impeachment ma una reprimenda il nome tecnico ma lo sono censure una censura che in inglese è una parola piuttosto forte che il senato praticamente all'umanità censurasse il comportamento del presidente con un testo che potevano mettersi d'accordo che conteneva l'esplicitore dichiarazione che ha invitato all'attacco eccetera poi l'aspetto giudiziario lascialo all'FBA lascialo ai servizi segreti lascialo ai sceriffi ai poliziotti delle varie città che stanno indagando se viene fuori che c'è il complotto vero cosa che dubito era un semicomplotto di metà metà ma non importa qualsiasi cosa venga fuori sul piano giudiziario la vendetta da quel punto di vista è veramente un piatto che va consumato freddo quindi se fra sei mesi c'è evidenza vera che questi qua stavano veramente cercando il colpaccio e che diavolo te lo giochi politicamente adesso cosa hanno fatto i sei perso la possibilità di unanimità e anche di unificazione del panorama nazionale e anche di tirarti dietro un po' di senatori che ti appoggiano alle cose che Biden vuole fare e li sei persi hai ricompattato tutto il senato repubblicano con perfino Mitchell e Pence che ti sta incontro a fronte di quel pezzo di opinione pubblica non informata perché c'è anche negli Stati Uniti ed è abbondante non è meno di quella italiana gli hai detto non è colpevole perché quelli che non seguono i dettagli dicono visto non è colpevole e hai riestremizzato che cosa perché hai puntato il ditino ora se l'ho detto felice perché povero Emanuele mi sta deprimendo come dicono gli ex compagni NFA ma che roba triste però l'intera sinistra questi qua i roventini questi intellettuali di Sinibarca il direttore del mulino continuamente col ditino puntato a dire cazzate moraliste sul mondo e poi a fare rivolta a Gabbana con la rapidità del cioè questo almeno Ocasio Cortez non lo fa invece loro a fare rivolta a Gabbana come Orlando noi al governo con la Lega nella stessa ma neanche se c'è Superman e adesso e adesso è lì che fa perfino il ministro nel governo di Mario e poi mi dice si è cambiata la situazione ma allora non dire fare affermazioni di principio morali politiche tre giorni dopo di guardi vediamo è una roba pratica faccio politica mi voglio il potere vedremo dalle circostanze decideremo ecco questa cosa e finisco il mio sprolocchio lascio la parola a te che ci ascolta mi sta dando il volta stomaco non solo perché è ipocrita falsa squallida ma perché sono dei dilettanti della politica io non sono un professionista ma santi Dio cosa ci voleva capire che sta roba dell'impeachment di Trump sarebbe stato un boomerang cosa ci voleva capire che le affermazioni altisonanti di fedeltà eterna a una specie di avventuriero col CV falso legato a camarille romane come Conte era un suicidio politico per il partito che voleva essere il grande partito da sinistra italiana ma che cazzo ci vuole serve mica essere un genio serve neanche essere stupido come Boldriss può essere ancora più stupido che è difficile ma è possibile questa iperbole mi è piaciuta una bella ringa finale ma guarda il punto è che poi i tuoi ascoltatori si sentono e dicono Boldriss che si incazza mi diverte ma che sto incazzando niente mi bevo te adesso no però io sono molto d'accordo con te ma si tratta secondo me si tratta del fatto che per decenni però in realtà allora parto da un presupposto il moralismo non è stato scambiato anche la destra ancora estremamente moralista su altri temi su altri temi basta guardare ma pensa soltanto a Pilon quella volta che ha cominciato a parlare della pornografia e del fatto delle depravazioni lui però non è mainstream lui è veramente una scoreggia nell'universo però c'è una tendenza nel senso anche la Meloni nei suoi discorsi ci mettono dentro tutta la corruzione dei giovani di queste nuove tecnologie e via dicendo c'è questa cosa qua quindi io non credo che la destra abbia mai abbandonato quel moralismo lì e anche in America è così cioè se tu vai a guardare quelli che sono i personaggi chiave della destra quella anche chiamata alt-right a ragione o a torto sono molto moralisti quindi magari in Italia si sente un po' meno però la moralizzazione secondo me in realtà è stata una metastasi che ha colpito tutta quanta la politica e ha preso anche la sinistra che a un certo punto è diventata parte integrante di questa retorica terrificante ed è dovuta a un fatto dal mio punto di vista non so io lo chiedo a te perché tu hai più memoria e più esperienza in questo caso a me sembra che la politica quando quando guardate che appena ha detto lo chiedo a te perché hai più di 30 anni più di me appena ha detto l'ho detto davvero conduttore di grandi show su Twitter perché tu hai più memoria mangi tanto merlusso ma guardate cosa mi tocca hai il fosforo hai appena preso il costituzione appena dato del boomer non fare il moralista non fare il moralista Michele non fare il moralista vedi sorrido faccio il rivelatore di te stai facendo il passivo aggressivo Michele stai facendo il passivo aggressivo fammi finire stiamo finendo fermati io a Venezia me lo prendo me lo incarto non dire più una cosa del genere allora allora stavo dicendo la moralizzazione ha preso secondo me quando ci sono momenti di diciamo così smettila di stasi politica in cui non ci sono più grandi cambiamenti grandi sconvolgimenti alla fine la politica deve vendersi cioè dal mio punto di vista il moralismo è una tendenza inevitabile del politico che si trova non avere più i grandi ideali perché a un certo punto magari la società si distende in un benessere non ha più bisogno delle rivoluzioni dei cataclismi dei rivolgimenti e via dicendo che cazzo fa il politico cioè il politico deve creare dei bisogni esattamente come il miglior marketer della storia e cosa fa il politico se non creare bisogni morali e quindi quella tendenza a dire io sono meglio di loro punto il dito per mostrare ai miei che io sono in prima fila a dire siamo meglio di loro è una tendenza inevitabile io credo che la politica non possa esimersi da questo il pragmatismo della politica questo l'aveva già detto Machiavelli il pragmatismo della politica nasce inevitabilmente nel momento in cui la politica deve impattare sulla realtà ma noi abbiamo una politica per 30 anni si è inventata le cose non può che essere moralista la politica in quel caso perché come fai a fare come fai ad attirare l'interesse delle persone se non dai alle persone qualcosa in cui credere e se non puoi più credere nella rivoluzione o nella ricostruzione dopo la guerra o nella crescita economica infinita o nel progetto continentale via dicendo tu gli dai la superiorità morale è l'unico prodotto che rimane al politico privo di idee secondo me e questa è stata la sinistra negli ultimi almeno 25 30 anni io almeno la vedo così no no sull'ultima parte non ho nessuna obiezione infatti forse la conclusione che voglio arrivare questi hanno sono incapaci di dire alcun che hanno perso ogni capacità di comprendere i processi di governarli sono attaccati a ideologie il capitalismo cattivo che non riescono a togliersi perché anche se dicono ma no ma noi siamo diventati socialdemocratici accettiamo il mercato in realtà la gente proprio quelli italiani in particolare quelli italiani in particolare hanno un linguaggio proprio li vedi ma poi quelli poi adesso io mi diverto ultimamente a prendere un po' in giro intellettualmente l'onorevole Andrea Orlando che saluto e l'ho già congratulato per la sua lezione per questo suo secondo ministero del lavoro ne apprezzo anche l'estrema duttilità un giorno un grande giurista l'altro giorno esperto del lavoro chissà quando si incaricherà della sanità o dell'istruzione o degli esteri e sai questo ex funzionario del PC giovane figgicciotto che è iniziato qualche anno dopo di me una cosa che avevo visto anch'io che ho felicemente abbandonato all'età di 22 anni e mezzo mi rendo conto che abbiano quella cultura lì e siccome non hanno letto nulla di serio salvo piccoli panflet che parlavano di cazzate italiane in questi anni non sono riusciti a capire come funziona il mondo li vedo e l'ho visto gli esperimenti con Felice con Costoro a questo sono serviti mi terrorizza vedere che una persona che a suo tempo ha studiato che negli anni 90 capiva come era nel processo in corsa come Fabrizio Barca sia caduto in queste cose e la cosa divertente che non vedo fra di loro nessun altro perché quando guardo a cosa produce intellettualmente la sinistra italiana il mondo filosofico con cui anche tutti i diletti da Cacciari a Agamben al povero Bodei che se ne è andato a Esposito parlano di cose che facciamo finta che forse sono interessanti ma certo non permettono di comprendere i processi attuali in corso i due e altri economisti rimasti sono questo Viesti che continua praticamente neoborbonico sì poverino incapace di avere un attimo bloccato perché non sa nulla e continua a ripetere i lamenti neoborbonici quindi una povertà intellettuale pazzesca e l'attaccamento a questi schermetti siccome hanno visto arrivare dall'America queste robe della discriminazione gender hanno detto noi scavalchiamo quello ma senza porsi il problema concreto di quale sia la discriminazione di gender in Italia che è tremenda perché le donne in Italia sono trattate malissimo ma non c'entra un cazzo con l'asterismo assolutamente c'entra con la loro condizione in famiglia c'entra con la carico che hanno sulla gestione dei figli c'entra con il tipo di educazione e lavori a cui vengono condotti ma l'asterisco se tu vai a guardare io capisco perfettamente come mai si è sviluppata questa cosa dell'inclusività linguistica e via dicendo la sinistra europea è dagli anni settanta imparando dai vari Deleuze Lyotard Foucault che va ripetendo che per cambiare il mondo devi cambiare il modo in cui si racconta il mondo guarda che nel senso il costruttivismo è questo tu cambia le parole e cambia il mondo credo che in parte sia la illetterata ignorante lettura dei racconti di direi certo perché se tu vai a guardare nel momento in cui tu ti ti convinci politicamente che il tuo unico ambito d'azione è il linguaggio o meglio ti convinci che per cambiare il mondo devi cambiare le parole con cui parli il mondo che è una delle cagate più incredibili che cazzo per un periodo della mia vita mi ha anche pure convinto porca puttana e lì se non sai quanto mi cazzo quello faccio fatica a fare coming out altro che altro quello mi dà fastidio avevo avuto questa impressione beh vabbè io te l'ho detto la mia la mia la mia la mia passione giovanile per Deleuze Foucault e via dicendo che sono autori che per alcuni tratti ancora apprezzano per quella roba lì proprio mi dico ma come ho fatto ad avvelenarmi il cervello con quell'idea lì e in realtà se tu ti convinci di quella cosa lì poi non ti preoccupare io ho fatto di peggio pensavo che Mario Tronti fosse uno astuto ognuno ha i suoi limiti intellettuali a vent'anni ma poi per fortuna si cambia per fortuna si cambia e alla fine dei conti mi rendo conto che se tu ti convinci di avere di rovesciare il rapporto fra mondo e linguaggio e quindi il tuo linguaggio non è più il frutto della relazione con il mondo ma è il contrario allora ti trovi soltanto ad avere parole da cambiare non agisci più per un cazzo e cambi solo le parole questa è una roba abominevole abominevole che si traduce non solo appunto nel discorso l'asterisco l'inclusività e via dicendo ma nel fatto che l'unica cosa che il PD ha fatto nell'ultimi dieci anni è cambiare le retoriche ma è stato in una inattività totale ne parlavo no è pazzesco perché poi non hanno politiche capisci non hanno politiche non hanno idee si sono tenuti quota 100 cioè che era una roba salviniana pura contraria poi a tutta la loro piccola storia di cose semidegne che era il piccolo tentativo di quell'area che poi ha fatto PD dal 95 96 poi di aggiustare il sistema di pensione di welfare italiano penso alla commissione o no offri insomma alcuni tentativi ecco Patrizio Bianchi va detto per chi non sa chi è che ha preso il ministro dell'istruzione non lo conosco bene ma è una persona molto degna spero faccia e appartiene a questa piccola tradizione intellettuale Patrizio Bianchi è un uomo di area fondamentalmente PD probabilmente stanco di queste cose ma ecco e quindi sono riusciti a sputare addosso a se stessi nella tenersi quota 100 capisci? hanno sputato addosso letteralmente sono andati allo specchio e hanno detto quello che è il pezzo di me che è buono un bel verdone Zingaretti Felice Orlando questa gente sono andati lì e a quel poco di tradizione riformista vera che da cui il PD era nato ai tempi della Zinnelli qualcuno si era posto in coscienza il problema a metà anni 90 ma santi Dio la gioventù italiana le pensioni il welfare che non abbiamo se eravamo qua proviamo ad aggiustarlo senza sconquassare perché non è che quello che avevamo proposto fosse la riforma Boldrin era una riforma molto moderata e loro hanno detto in faccia lo stesso con la vita di cittadinanza io spero Draghi forzi di svuotamento di questo contenitore facendo quindi sono completamente d'accordo non hanno proprio più niente non sono d'accordo sulla tua interpretazione della destra ma non è perché voglia fare un'apologia e la destra a mio avviso è rivendicazionista ormai quando hanno più di quattro sillabe mi si attorciglia la lì non è davvero in italiano con più di quattro sillabe non riesco più a dirlo le aglie estreme sono d'accordo con te però è un moralismo diverso su questo è una roba secondo il tempo facciamo una riflessione leggiamo anche qualcosa sì è identitario sì 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 indubbiamente sì sì no beh ma cioè non è che sono arrabbiati perché ci si droga sono arrabbiati perché tutti questi n puntini 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 si drogano sì però prendono il potere cioè puntano il dito non ci siamo più noi col fucile no e beh sì nel senso puntano il dito però dicendo guardate che nel senso se tu fai quelle cose là non sei più come noi e via dicendo cioè nel senso cioè comunque poi io sono d'accordo sono moralismi diversi però è sempre il tentativo di denunciare puntare il dito è dire di qua si sta meglio di qua siamo più fighi di qua va bene siamo in prima linea è un po' questo è l'ultima è l'ultima arma del politico in etto quello perché il politico dovrebbe avere una visione dovrebbe avere una visione qui non c'è più visione ti dico di un'altra idea vai nella è venuta fuori un pranzo con colleghi di cui si discuteva schematissima schematicissima nel mondo del business dell'innovazione oramai siccome è tutta una questione difficile di stare sulla frontiera vinci solo se hai un'intelligenza una capacità di capire le cose capacità cognitive molto alte e hai potenzialmente reward alti non è che diventi non è necessario diventare Zuckerberg per avere reward alti anche se fai ricerca applicata poi raggiungi livelli di reddito alti se fai anche se fai youtube in realtà no? ci sono livelli di soddisfazione di reddito alti rispetto a quello di prima rispetto alla me paradossalmente di fronte a questo la politica offre meno reward non solo l'entrata in campo della come dire del uno vale uno cioè quindi la ulteriore democratizzazione della politica fa sì che la politica sia ormai l'unica area che è rimasta dove emozioni menare l'altro avversario eccetera domina quindi il leader politico sarà sempre di più un incompetente sempre di più un capetto un boss un uno nella migliore delle ipotesi che anima le emozioni più di quanto lo sia stato già no? cioè i tipi come Moro come Adenauer o come non entusiasmarebbero più e quindi c'è questa biforcazione tremenda perché nella politica vanno persone in realtà con capacità cognitive mediocre come questi che abbiamo visto in scena che però sanno proferire grandi slogan sanno diventare capetti sanno fare i salvini sanno agitare le masse e la tensione fra il mondo di chi compete e produce e il mondo della politica che li odia perché vede che vanno da un'altra parte e non li capisce crescerà questo è assolutamente corretto io sono è il motivo per cui dico sempre in Italia purtroppo la politica è diventata il rifugio dell'incompetente cioè nel senso è quello che molto spesso in politica ci fa quello che non è così dappertutto e per fortuna la politica la politica non è solo questo perché se no quando se sente Giulia Pastorella questa cosa qua arriva domani mi fa una telefonata e mi dice ma che cazzo dici cioè nel senso per fortuna non è così in tutto in tutto il mondo ci sono ancora i luoghi dove questo può non sarebbe vabbè lasciamo stare il partito dicendiamolo così il partito in cui fa parte è il partito di uno come Ricciardi e di uno che blatera a caso quindi francamente no no ma infatti perché in Italia è così perché in Italia è così perché in Italia è così sono credo ci sia ma il mio punto è che Trump prova che è così il mio punto è che Ted Cruz prova che è così ma anche Nancy Pelosi prova che è così per carità il processo in Italia è molto più avanzato che in altri paesi ma Johnson prova che è così e tante altre cose provano che è così cioè l'elenco adesso sarebbe piuttosto lungo è vero è vero la tendenza io la vedo emergere in Spagna poi gruppi di Podemos ma anche questi che sono spuntati di Vox che conosco meglio conoscendo proprio i personaggi cioè fisici so che il cosiddetto cui non è esattamente dei migliori e mentre l'aspetto retorico come dire è molto lo slogheggiamento c'è un aspetto però e qui andiamo verso la conclusione c'è un aspetto poi a un certo punto arriva la realtà cioè nel senso io capisco perché in un momento di benessere come il nostro la politica si sia distaccata completamente dalla realtà convincendosi che solo il linguaggio conta ok quindi tutti quanti hanno cominciato a fare i loro circoli di slogan e retorica e oratoria a fine a se stessa e via dicendo come ho detto nel podcast che è uscito questa mattina in cui ho proprio parlato del fallimento dell'uno vale uno ok cioè che quello che stiamo vivendo è il fallimento dell'uno vale uno quello che ho detto alla fine è io non so un cazzo di idraulica Michele io rischio di fare un sacco di danni quando ci sono dei guasti in casa ok però finché il problema finché il problema è riavvitare un filtro persino io posso farmi passare per idraulico quando poi si rompe la cazzo di tubatura io chiamo quello vero e la cosa importante però è avrò il coraggio di ammettere che il guasto l'ho causato io perché questo è il vero problema il vero problema è che quello che stiamo vivendo è letteralmente il frutto di questa politica che si è emancipata dalla realtà e che ha mandato avanti delle fantasie per decenni l'emblema di questi giorni è il blocco dei licenziamenti cioè io non so se hai letto qualcosa nella stampa ma una delle cose più pesanti che Draghi dovrà gestire è il fatto che il 31 marzo scade il blocco dei licenziamenti e c'è un sacco di gente che dice ho letto abbondatamente io anche ne ho scritto è il vero problema l'ho anche chiesto infatti al mio amico ministro Andrea Orlando che piani lui al riguardo e lui mi ha detto grazie per gli auguri la domanda me la ignora come al solito non ha più risposta è stato lì che c'è il 30 minuti io ho letto commentatori dicendo che dicono beh ma che problema c'è la si estende con gli ammortizzatori ma che cazzo ma da dove arrivano i soldi ragazzi nel senso questi non si rendono conto che è una misura che è inevitabilmente a termine e che in realtà bisogna cambiare il modo con cui è messa in atto per far sì che non accada un disastro perché questi non si rendono conto che quando poi il blocco dei licenziamenti se ne andrà avremo un milione disoccupati in più nell'arco di pochi mesi quindi però ancora questa tendenza a dire vabbè ma se lo dico nel modo giusto vedrai che sparirà ecco questa è la cosa veramente terrificante come se la politica fosse una serie di incantesimi e questa cosa cioè sembra un film diretto da Jodorowsky la montagna incantata di Jodorowsky però sceneggiato di merda questo è quello che sto vedendo sì questo governo sono d'accordo è proprio la prova del fatto che l'uno vale uno questo lo dice lei appunto crollato l'uno vale uno bisogna rispondere questo lo dice lei crollato completamente se uno valesse uno Grillo non sarebbe andato a Roma a parlare con Draghi vedremo vedremo come andrà a finire perché sai come anche detto non viviamo in una situazione di miseria per molti ma non manifesta ed è una miseria relativa perché l'altra cosa che mi impressiona è come quel 50-60% della popolazione italiana che non vive bene e sa di vivere con prospettive non particolarmente allettanti non chieda di vivere meglio e di vivere con prospettive più allettanti ma chieda boh la famosa runa del polso riconoscetemi chiede riconoscetemi chiede di essere riconosciuta invece di avere delle condizioni migliori riconoscetemi ci sono anch'io non lo so guarda io faccio proprio mi piacerebbe proprio capirlo cioè alcuni ne conosco non riesco bene a capire perché li sento protestare ma non li sento in realtà chiedere una prospettiva non lo so ho paura te lo dico onestamente che fatte quelle tre misure tre necessarie l'Italia che appunto protesta ma non chiede una prospettiva dia forza a costoro a quelli che riconoscono questo governo come estraneo come un corpo estraneo perlomeno il presidente di questo governo è 6-7 dei suoi ministri e lo ribalti di colpa non è impossibile è un rischio è un rischio reale è un rischio reale secondo me la cosa furba che deve fare Draghi è cercare di centellinare le misure cioè nel senso cercare di far sì che le misure non vengano tutte percepite come risolte nel breve termine ma che dia atto a dei processi insomma almeno a medio termine perché io credo il più grave compito di questo governo è far rendere conto della realtà al paese cioè che il paese si accorga del fatto che la realtà si è già scontrata con noi frontalmente e invece siamo ancora qua a raccontarci che no non è così comunque siccome vedo e so che molti si sentono di sinistra e sperano in assista e mi rendo conto che alla luce di quello che Salvini e Lameloni sono oggi sia insomma se hai un minimo di decenza diventa difficile spontaneo sperare attaccarti disperatamente alla sinistra il mio invito è che i giovani che ci pensano si rendano conto che oggi la sinistra non è meglio è solo più vestita a festa di Salvini e Lameloni ma che l'essenza di quello che fanno è pura ideologia e non stanno capendo nulla dei processi in corso quindi da questo punto di vista sono molto sono forse addirittura più dannosi guarda oserei dire che sono forse più non lo so adesso vabbè abbiamo finito dai mi fermo sono tornato a riguardarmi quello che ha fatto il governo Salvini e mi sono reso conto che al di là di fare con gli immigranti con gli immigranti in maniera esplicita e sfacciata per ragioni di propaganda le stesse cose che ha fatto il governo successivo di nascosto certo ok e fare le due promesse elettorali che questo governo ha mantenuto poi non ha fatto un cazzo niente mentre questo governo ha fatto centinaia di cose una peggio dell'altra il simbolo del centinaia di cose fatte male è arcuri ovviamente e quindi quando guardo la vita mia materiale non so chi me l'ha peggiorata di più conte 1 o conte 2 io propendo per conte 2 beh conte 2 poi ecco diciamolo diciamolo conte 1 non ha gestito il discorso covid quello secondo me va comunque messo sul piatto della bilancia però sì indubbiamente indubbiamente il conte 2 è stato ma più che altro perché in realtà per assurdo Lega e 5 Stelle in un certo modo si arginavano l'uno con l'altro cioè si sono scornati sono riuscito a fare poco perché perché non si capivano queste due forze e il PD invece essendo totalmente evanescente ha lasciato all'altra parte praticamente carta bianca e questo secondo me è il punto fondamentale che ha fatto sì che il conte 2 facesse molti più danni e se a questo ci aggiungi l'accelerazione della crisi dovuta alla pandemia allora insomma hai chiaro il quadro e speriamo che Draghi riesca 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 a muoversi ecco riesca a muoversi non soltanto per 6 mesi e fare quello che loro non hanno il coraggio di fare per poi tornare a tutto come era prima e vabbè però questo questo non dire gatto se non ce l'hai nel sacco come si suol dire in questi casi aspettiamo e vediamo dai sì sì il governo aspettiamo va bene va bene dai ultima cosa ultima cosa veloce sul io mi sono letto l'atto di accusa dell'impeachment a Trump tanto per riprendere il discorso che facevi prima è scritto con i piedi cioè veramente tutto l'impianto accusatorio tutto l'impianto accusatorio si basava sull'interpretazione della parola incitamento di nuovo di nuovo linguaggio di nuovo il senso delle parole incredibile incredibile incitement cosa vuol dire incitement e sono presi pop per questi per capire se il paradosso della tolleranza aiutava per capire se incitamento è diretta violenza oppure incredibile io non l'ho letto ma mi sono letto le cose su cui volevano fare il dibattito fra di loro era quello che ti dicevo prima invece di aspettare dal tempo se eventuali atti giudiziali di polizia portassero evidenza vera con chi è colpevole chi non è colpevole loro hanno fatto una roba tutta ideologica tutto appunto l'hai detta perfettamente tutta linguaggio costruita sul fatto che lui li ha incitati con nessuna prova ma neanche indizi cioè vaghi che tra l'altro finirà per coprire e assolvere come ragazzate implicitamente agli occhi della politica poi l'FBI se trova l'evidenza che fai cazzate ti persegue appunto non gliene frega niente di cosa pensa l'opinione pubblica ma a fronte dell'opinione pubblica finirà per coprire i quanon o i boys come cazzo si chiamano Proud Boys ma ragazzate no è così è così è così è proprio disastrosa comunque è veramente se la sinistra non si toglie di dosso questa ossessione del linguaggio si autofagociterà in modo in modo eclattante è quello che sta già succedendo visto che il linguaggio è importante prima ho fatto un errore ho detto la montagna incantata di Jodorowsky che è invece la montagna sacra va bene insomma l'incantata era di quell'altra sì esatto esatto però vabbè al di là di questo io direi che ci siamo Michele abbiamo detto tante cose stavolta un po' più disordinate delle altre volte ma va bene così no perché è ordinatissimo è ordinatissimo l'ideologia della politica la qualità del politico è vero è diventata pura predica ideologica letteraria se vuoi simbolica è vero non sembra più fare attenzione c'è una parte di gente che ordina di di fatte delle cose di sinistra a modo loro poveri disperati sì gli stanno chiedendo fate delle cose concrete sì ma il problema è che ritenete di rappresentare o che dite di voler rappresentare fate delle cose concrete che abbiano un effetto positivo sulla vita di costoro non sono in grado neanche di concepire però com'è che lo chiedono con i meme con i meme di Nanni Moretti e di qualcosa di sinistra e di qualcosa di sinistra hai ragione ma infatti perché perché le leadership a quello servono per dare un linguaggio un'analisi un modello un inquadramento di analisi alla gente che ha dei bisogni delle necessità delle fatiche dei cruci ma non li ha razionalizzati sì ma solo che questi disgraziati hanno completamente abbandonato l'idea di essere leader non sono capaci di sedersi davanti ai loro militanti di dire compagni che siamo ancora compagni guardate che è così ecco là sì assolutamente loro prendono passivamente la rabbietta e gli mettono l'asterisco e vabbè vediamo vediamo dai che cosa succede io direi che chiudiamo qua abbiamo messo tanta carne sul fuoco e poi insomma sicuramente riprenderemo alcuni di questi discorsi e se siete in live non uscite subito mi raccomando che adesso concludiamo Michele noi ci vediamo la settimana prossima quindi fai il bravo ciao caro passa una buona serata e non dimenticate che non è tutto ciò che pensa almeno che tu non sia di sinistra perché allora non pensi e con questo ci fanno un culo così su twitter domani e va bene così facciamo pure è una battuta non hanno se fanno il culo così e provano che non hanno neanche il senso ciao Mike ciao arrivederci